Si è aperto a Kazan, in Russia, il sedicesimo vertice dei BRICS, l'organizzazione delle economie emergenti. All'evento partecipano non solo i capi di Stato che fanno parte dell'organizzazione internazionale, ma anche molti altri politici di spicco. Il gruppo, fondato nel 2009 da Brasile, Russia, India e Cina, ha successivamente registrato l'adesione prima del Sudafrica e poi di Egitto, Emirati Arabi Uniti, Iran ed Etiopia. Questi paesi rappresentano una fetta significativa dell'economia globale. Il loro PIL totale supera i 60 miliardi di dollari e la quota globale è del 37,4%. A partire dal 1 gennaio 2024, la Russia ha assunto la presidenza dei BRICS con l'obiettivo di rafforzare i rapporti commerciali ed economici tra gli Stati membri. Durante i tre giorni di colloqui sarà discussa l'espansione del gruppo a nuovi membri e la riduzione della dipendenza dal dollaro statunitense mediante un nuovo sistema di pagamenti. Ascoltiamo le parole dell'ambasciatore della Federazione Russa in Italia, Alexei Paramonov, intervistato dal direttore di Teleambiente Stefano Zago. Si cerca di elaborare degli approcci comuni, ma naturalmente gli approcci che riflettono l'interesse ciascuno dei paesi del gruppo. La cultura BRICS non prevede qualsiasi tipo di imposizione. Quindi ogni decisione nel gruppo si imprende a titolo di unanimità. Quindi naturalmente se qualcuno non è d'accordo o non può partecipare a quella decisione per lasciare spazio ad altri a farlo, oppure se questa decisione in qualche misura riguarda tutti i paesi che partecipano a questo processo negoziale, a questo punto questa decisione si rinvia e quindi si lascia spazio alla continuazione della trattativa per raggiungere una decisione, una proposta che fa bene per tutti i membri del gruppo. Quindi è una cultura assolutamente diversa. Se noi vediamo altri gruppi dei paesi presenti nel mondo dove noi vediamo che c'è sempre un'imposizione, una ricerca di imporre una politica magari che non corrisponda all'interesse di tutto il gruppo, però corrisponde magari a un paese più forte e quello paese più forte cerca di imporre questa posizione, questa soluzione adoperando ogni modo possibile. Un'ultima domanda sulla questione ambientale. Noi abbiamo appunto il Brasile che sta cercando di salvare e salvaguardare la foresta amazzonica, in qualche maniera la Cina che cerca anche lei di ridurre le emissioni della CO2 sulla questione appunto dell'inquinamento sia dei fiumi per le plastiche sia per la CO2. Qual è l'idea del BRICS e in che tempi si adegueranno alla questione di abbassare le emissioni di CO2 per abbassare la temperatura poi globale? No, le problematiche ambientali, il punto 1 è che le problematiche ambientali riguardano tutto il mondo e tutti i paesi del mondo. Naturalmente in questa situazione ogni paese anche la situazione di ogni paese non è uguale alla situazione di un altro paese. quindi perché se lei ha detto che ha citato l'esempio del Brasile, per esempio in Russia ci sono un paese anche con l'estensione forestale che magari è paragonabile a quella di Brasile, solo che il Brasile ha un tipo di foresta che sono foreste fluviali, invece diciamo in Russia si tratta innanzitutto di foreste di una regione climatica tutta diversa e quindi a questo punto direi che senza trascurare gli obiettivi comuni, quelli di salvaguardare dell'ambiente, del clima e quindi anche di tutto ciò che questo comporta, bisogna tenere presente anche delle specificità di ogni paese che richiedono anche un approccio diverso riguardo diciamo alle soluzioni che vengono proposte per un altro paese. Ma questo vuol dire che comunque tutti i paesi BRICS naturalmente tengono presente i problemi del mondo, quindi non anche vogliono e intendono partecipare anche ai problemi globali, adoperando però i meccanismi e gli approcci diciamo più inclusivi, più unificanti che escluderebbero le situazioni quando una soluzione cercata o trovata magari favorisce qualcuno ma nello stesso tempo porta del danno a qualcun altro. Quindi sì che anche queste situazioni possono esistere ma queste situazioni devono essere trattate in maniera inclusiva e quindi per evitare una qualsiasi divisione su quel principio di questo o di qualche altro tipo. Questa è una che noi chiamiamo la cultura del BRICS che è una cultura unificante, non una cultura divisiva. Magari in questo anche sta l'approccio di base che è differente dai meccanismi che noi vediamo dalla parte occidentale della Russia.